È un contratto di locazione a titolo gratuito e quindi anche qui andiamo a risparmiare un affitto che stavamo pagando al demagno. Poi c'è l'area del Codma che anche questa è un risparmio notevole. Quest'operazione che è durata verso i mesi comunque ci ha portato un risparmio di circa 30.000-34.000 euro all'anno che i suoi effetti li vedremo efficaci nel bilancio futuro 2016 e avanti. Nell'ottica della rivisitazione anche del patrimonio, quanto mi sono insediata, abbiamo cercato di riutilizzare e riorganizzare dei locali che con diversi trasferimenti riusciamo a dare maggiore adeguatezza e maggiore efficienza ai vari uffici. Quindi è un'ottica di riorganizzazione e di efficientimento sia per quanto riguarda la macchina comunale ma anche cercare di dare maggiori servizi ai cittadini.